ciao a tutti lettori di out of beat siamo oggi in compagnia di xiaomi mi 8 l'ultimo device realizzato dal produttore cinese il top di gamma per il modello 2018 un device che si ispira chiaramente all'iphone x ma che si presenta con una miu i10 in grandissima forma e con una qualità realizzativa ottima ne scopriamo tutti i dettagli nella nostra recensione partiamo quindi ad analizzare mi 8 dalla sua scatola rimuoviamo un attimo da qui il device confezione nera con numero 8 ricordiamo che xiaomi è saltato la numerazione 7 che il 7 è un numero sfortunato in cina quindi sono saltati direttamente la versione 8 all'interno della confezione troviamo una dotazione abbastanza completa l'ho già estratta per evitare di perdere tempo c'è una coverina in tpu molto carina simpatica sicuramente comoda anche perché ci permette di andare a risolvere uno dei problemi maggiori di mi 8 quindi la sporgenza della fotocamera posteriore quindi andando ad inserirla il device non trema più una volta appoggiato su una superficie piana e ci permette anche di risolvere il problema della scivolosità del retro del device ma ne parliamo dopo ci sono poi a disposizione all'interno della scatola un cavo usb usb c da utilizzare per la ricarica una carica batterie compatibile con ricarica veloce quick charge 3.0 un adattatore da usb c a jack per l'utilizzo delle cuffie e il pin per estrarre il doppio slot sim ok quindi abbiamo visto la dotazione abbastanza completa c'è tutto quello che serve per la costruzione possiamo dire che xiaomi si è palesemente ispirata ad iphone x nel frattempo mi si è scaricata la batteria come vediamo le linee sono molto pulite sono molto simili a quelle di iphone per la realizzazione si è optato per una combinazione di vetro che va a coprire la parte anteriore e posteriore e l'alluminio per la scocca esterna la qualità realizzativa è sicuramente ottima il design si caratterizza per la curvatura dei bordi su posteriori ed è un device abbastanza ergonomico leggermente scivoloso nella parte posteriore però come vi dicevo prima si può superiore a questo problema grazie all'utilizzo della cover un device con cornici molto ridotte sulle parti frontale e con la presenza di un notch importante che va ad occupare buona parte dello schermo la scelta di optare per questo notch molto molto grande rispetto a quello che ci siamo abituati a vedere sui device android è da ricercarsi non mi riconosce da ricercarsi nel posizionamento del sensore infrarossi che permette una migliore migliore riconoscimento del volto e quindi un perfetto funzionamento dello sblocco facciale diciamo che a livello di costruzione ed ergonomia e di design e xiaomi ha fatto un ottimo lavoro tutto il device lo smartphone è realizzato in maniera ottima anche se come vedete c'è chiaramente lo spunto preso da device apple vediamo quindi di parlare ora di hardware l'hardware è sicuramente un altro dei punti di forza di questo device ci troviamo di fronte a un miotto con una scheda tecnica davvero top di gamma troviamo un processore snapdragon 845 octa core affiancato di una gpu adreno 630 6 gb di ram 64 gb di memoria interna disponibile anche il formato da 128 ma lo vediamo subito nel mio nel my device ok cpu abbiamo detto molto potente ram abbastanza capiente e memoria interna disponibile in due tagli non espandibile quindi fate attenzione quando scegliete il vostro modello se sapete che avete bisogno di molta memoria eventualmente potete optare fin dall'inizio per l'acquisto del modello da 128 gb sensori completi doppio gps con un posizionamento spettacolare per quanto riguarda l'hardware lo sblocco facciale che funziona molto bene sicuramente uno dei migliori per quanto riguarda i device android sul retro c'è il sensore per le impronte digitali molto preciso molto veloce anche facile da trovare in quanto è posizionato molto bene vediamo nel mentre cosa premuto di tutto quindi un un hardware che permette di avere prestazioni ottime con un device che funziona sempre in maniera fluida un sistema operativo che funziona sempre molto bene la connettività è garantita sia su è ottima e garantita anche sulla versione cinese che sto provando io quella che abbiamo testato appunto è la versione asiatica ma anche qui c'è la banda 20 quindi la possibilità di utilizzare le lte fino a 1024 megabit al secondo il wifi con doppia banda c'è il doppio gps bluetooth 5.0 mancano solamente il radio fm di jack audio quindi una scheda tecnica un hardware super completo non manca niente manca solo jack audio ma è una mancanza cui ci siamo ormai tristemente abituati quindi anche un comparto hardware sicuramente ottimo anche per il display shomi ha fatto un lavoro eccellente il display è da 6,21 pollici super amoled come vedete colori molto buoni magari lo vediamo in una foto che ho scattato prima così ci dà maggiormente l'idea della bontà dei colori ho disattivato sicuramente la rotazione eccola qui no non ha voglia di ruotare non importa ma come vediamo i colori sono ottimi molto spinti sicuramente sempre molto buoni i selfie sono brutto io quindi lo evitiamo anche qui colori molto buoni il display da 6,21 quindi è un super amoled di buona qualità con 2248 pixel per 1080 di risoluzione è un display molto luminoso molto ben leggibile sotto la luce diretta del sole ha una luminosità massima ottima ha un'alta qualità dei colori è ben calibrato c'è poi la possibilità di impostare calibrazioni a piacere all'interno delle impostazioni della MIUI 10 c'è il notch come dicevamo prima abbastanza importante ma nel complesso è un display molto buono passi in avanti sono stati fatti anche sul software come vi dicevo nella recensione degli altri device Xiaomi MIUI 9 era un'ottima ROM MIUI 10 segna un passo in avanti ulteriore come vediamo è la MIUI 10 stabile sto utilizzando la versione cinese con installate le Google Apps c'è la possibilità di installare facilmente la versione global con lingua italiana e Google Apps sono anche sulla versione asiatica quindi non è sicuramente un problema MIUI 10 che segna un netto passo in avanti rispetto anche alla versione precedente la scorrevolezza del sistema e la fluidità sono ottime Xiaomi ha deciso di implementare alcune future molto simili a quelle di iPhone nella parte in alto sono gestibili i toggle in maniera identica a quelli di iPhone le notifiche non vengono più visualizzate attraverso il notch ma c'è un multitasking palesemente identico a quello di iPhone non identico ma molto simile però ci sono una serie di future come lo split screen la possibilità di utilizzare un secondo spazio e clonare le applicazioni che rendono il software sicuramente una delle versioni di Android più complete sicuramente è quella che mi piace di più in quanto c'è una personalizzazione grafica buona, ottima, anzi direi la possibilità di utilizzare i temi la possibilità di personalizzare gran parte del sistema operativo e c'è poi quella serie di funzioni che permettono di dare al sistema operativo una marcia in più ad esempio mi è piaciuto molto Second Space la possibilità di clonare le applicazioni per quanto riguarda il notch, dimenticavo di dirvi prima c'è sempre la possibilità di nasconderlo e quindi di non visualizzarlo ad esempio adesso viene gestito in questa maniera se scriviamo notch per trovarlo in velocità c'è la possibilità di nascondere il notch e quindi si andrà ad avere una barra nera qui in alto insomma è una soluzione non ideale ma permette a chi odia questa tacca hardware di superire il problema c'è poi anche la possibilità di utilizzare i pulsanti in basso sullo schermo utilizzare le gesture a full screen quindi sfruttando appieno i 6,21 pollici del display le gesture sono praticamente identiche a quelle di iPhone X c'è la possibilità di aprire i recenti andare alla home, andare indietro e fare lo swipe all'applicazione precedente funzionano benissimo non ho mai utilizzato i pulsanti di navigazione e devo dire che non ho avuto problemi serve sicuramente qualche decina di minuti per abituarsi alla nuova modalità ma sicuramente non è assolutamente un problema quindi anche sul comparto software Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro sia sulla versione MIUI 10 di asiatica che sia sulla versione global passi in avanti sono stati fatti anche sulla fotocamera fotocamera posteriore doppia leggermente sporgente non tanto come altri device che ho testato recentemente ma appoggiandolo su un piano il device trema quindi si può andare ad utilizzare la cover come vi dicevo e risolvere questo problema estetico e di design la doppia fotocamera posteriore ha due ottiche una da 12 e una da 20 megapixel la principale con apertura focale 1.8 stabilizzata la seconda con apertura focale a 2.4 con zoom ottico 2 la vera novità sul comparto fotografico è l'introduzione dell'intelligenza artificiale che permette di migliorare ulteriormente la qualità degli scatti andando a migliorare principalmente la saturazione e la precisione delle immagini ci sono poi tutte le solite funzionalità che abbiamo sempre visto i video, foto, portrait, square, panorama e quant'altro c'è la possibilità di utilizzare o meno l'HDR c'è la modalità manuale che ci consente di impostare a piacere le varie impostazioni ho fatto qui un po' di foto a cazzo vediamo come sono venute allora solita orchidea con intelligenza artificiale con uno scatto molto da vicino colori ottimi un ottimo bilanciamento ottimo il dettaglio non c'è particolare presenza di rumore quindi una foto sicuramente molto buona anche qui altro dettaglio della stessa orchidea come vedete la qualità fotografica è ottima la mia magnolia fatta con intelligenza artificiale ha sicuramente riconosciuto il dettaglio dell'albero i colori sono molto buoni la precisione è molto alta il mio giardino con le prime foglie autunnali anche qui sono uscito colori molto brillanti tipici degli AMOLED ma un ottimo livello di dettaglio i fili d'erba si vedono molto bene anche zoomando al massimo quindi una foto sicuramente più che sufficiente poi due selfie fatti con la fotocamera anteriore da 20 megapixel non ho trovato l'effetto bouquet sicuramente è nascosto da qualche parte ma i selfie sono di buona qualità il dettaglio dell'immagine è ottimo la mia bruttezza rimane incontrastata però sullo zoom sui miei personaggi di Star Wars rimane buono e quindi sono soddisfatto di questo selfie poi qui ho fatto un altro scatto mentre scrivevo la recensione con il mio Mac anche qui un'immagine con colori buoni sempre con l'utilizzo di intelligenza artificiale che ci permette di migliorare gli scatti quindi anche il comparto fotografico è migliorato ulteriormente è migliorato soprattutto via software Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro anche qui quindi tutto il comparto hardware da quello che sono le prestazioni il processore, la RAM e quant'altro fino al display la fotocamera è sicuramente ottimo e paragonabile a quello degli altri top di gamma nelle foto dimenticavo prima si perde un po' di qualità col cadere della luce ma è normale perde un po' di più rispetto a S9 o P20 Pro ma la qualità è sicuramente ottima sempre chiudiamo parlando di autonomia e prezzo l'autonomia e la batteria è da 3400 mAh permette di arrivare a fine giornata senza nessun problema c'è sempre quel 20% residuo che ci consente di giocare prima di dormire cazzeggiare prima di dormire senza pensieri si può arrivare con un utilizzo abbastanza soft fino ai due giorni di autonomia quindi anche qui è davvero ottima il prezzo la versione cinese da noi provata è venduta su Gikmall a 449 euro sempre su Gikmall è possibile acquistare la versione 6 GB di RAM 64 GB di memoria interna a 419 euro e devo dire che il rapporto qualità prezzo è spettacolare con 420 euro vi ritrovate un device con un'ottima qualità costruttiva un ottimo software un'ottima fotocamera che viene venduto di fatto ad un prezzo da medio di gamma quindi per me il rapporto qualità prezzo è sicuramente il migliore del 2018 cosa possiamo dire concludendo di Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 sembra un iPhone sembra un iPhone con Android per fortuna c'è la MIUI 10 che è realizzata in maniera ottima è davvero un software splendido nel complesso possiamo dire che c'è un design molto simile a quello di iPhone però è molto bello lo smartphone è realizzato ottimamente c'è la combinazione di alluminio sulla scocca e vetro per parte anteriore e posteriore che mi ha sicuramente convinto c'è un ottimo hardware un bel display un bel comparto fotografico che ci consente di scattare foto molto buone all'altezza finalmente degli altri top di gamma del 2018 c'è un vantaggio rispetto a tutti gli altri concorrenti che Xiaomi Mi 8 ha e può vantare e il rapporto qualità prezzo è venuto ad un prezzo incredibile a 420 euro ci si trova di fronte ad uno smartphone bello e completo che non posso non sentirmi di consigliarvi di acquistare grazie a tutti per aver visto il video grazie anche a Geekmole che ci ha fornito il device per la recensione grazie e alla prossima